I vetti di Forza Italia su Alternative for Deutschland e Le Pen pesano nella maggioranza qua a livello nazionale? No, i vetti li daranno i cittadini. Se poi ci saranno dei partiti con il 30% e dei partiti con l'1%, capite bene che poi i vetti si dimenticano perché bisogna fare una maggioranza. La maggioranza del Messi? Ma che turbamento, adesso sperabilmente almeno per quattro mesi non ne parliamo più e poi non ne parleremo più definitivamente, sperandosi. Forza Italia non è d'accordo però ad esempio? Beh, infatti è proprio per quello che non si... prendo prudenza e dico che bisogna discutere in maggioranza sapendo che ci sono delle posizioni sfumate. Però, come pensiamo noi, penso io, lo so anche tutto il mondo, come la pensiamo noi, è una posizione, siamo l'unico partito che non ha mai votato il MES neanche nella prima versione del 2011. Il Fratelli Italia è sempre stata abbastanza chiara anche loro e giustamente Forza Italia ha una posizione un po' più sfumata, ma ne discuteremo assieme come si fa sempre da buoni alleati.